L'autore di questo libro è Daniel Defoe. Il nome di questo libro è Robinson Crusoe e parla di un uomo che naufraga su un'isola e che è completamente solo a parte degli animali che gli tengono compagnia come un cane, un gatto, un pappagallo e un greggio di capre. Dopo il viaggio avventuroso che avevo compiuto, il cammino mi parve molto agevole e a sera giunsi nella mia vecchia capanna dove trovai ogni cosa come l'avevo lasciata. Scavalcata la staccionata, stanco morto, mi stesi all'ombra per riposarmi e mi addormentai. Ma immaginate la mia sorpresa quando fui svegliato da una voce che mi chiamava per nome, ripetutamente. Robin! Robin! Robin Crusoe! Povero Robin Crusoe! Dove sei Robin Crusoe? Dove sei stato? Il sonno in cui ero caduto era profondo, ma mi svegliai subito, ancora stordito. Credeti di aver sognato che qualcuno mi parlasse, se non che, appena aprì gli occhi, vidi Lorenato appollaiato in cima alla palizzata e capì subito che era stato lui a parlare. Infatti era lo stesso linguaggio lamentoso che ero solito a usare quando gli insegnavo a parlare. E lui aveva imparato così bene che posandosi sul mio dito e tenendo il becco verso il mio viso, gridava Povero Robin Crusoe! Dove sei? Dove sei stato?